Ciao 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 a tutti, oggi è il primo novembre, ma chi lo direbbe mai, guardate che cielo! Io sono a passeggio con il pippo, di solito va mio marito ma quando l'ho impegnato c'è sempre la mamma e facciamo il nostro giretto e mentre passeggio vedo da lontano il mio genero con il passeggino con i miei gemellini adesso vado a raggiungerlo ecco qui e qui il pippo può girare liberamente senza ghinzaglio perché siamo all'interno dell'area cosiddetta sgambamento cani dove appunto i cagnolini possono muoversi liberamente si fanno incontri una gazza che saltella tutta allegra ci avviciniamo piano piano ma lei giustamente si allontana con passo da nobile donna carina non sembra avere molta paura, tiene giusto le distanze di sicurezza ma io sono affascinata dagli animali, qualsiasi tipo di animale a parte i serpenti e i ragni guardate che carina, bellissima mi avvicino ancora un po', ma lei ecco un bel saltello e ciao e gli incivili non mancano nemmeno qui un cestino qua in bella vista e qua cartacce di ogni genere purtroppo i vandali e i maleducati ci sono ovunque la passeggiata sta terminando, mio marito mi ha scritto che è appena arrivato a casa vado a casa anch'io piccolissimo vlog oggi giusto per farvi vedere quanto può essere bello anche novembre ciao a tutti, un abbraccio, un sorriso, al prossimo video